Io non mi fate domande perché non mi risponderò, quindi vi prego con educazione non lo fate ripetere perché usate. Oggi è il momento di Ringio Star, va bene? Ringio Star potrebbe essere inventata qui a Napoli. E' in Napoli osannato da Rigo Sarri e a Rigo Sarri... Fammela fare da Barbano, Barbano come cazzo si chiama, problemi suoni. Ma come problemi suoni? Amici belli, allora, allora, io praticamente il video che ho fatto ieri appena ho premuto pubblica è successo il padatrack dell'esonero immediato, in nottata, che l'avevano detto dobbiamo parlare domani, tutto cacato, vabbè. Comunque sia, Ringio Star, lo mettiamo qua, somiglia pure un pochino. Ragazzi, vabbò, al di là, tralasciando l'atteggiamento di The Laurentiis che è il solito oramai, ragazzi, non è nemmeno prendere o lasciare, perché è a così, finché non arriva l'Emirato che si compra in Napoli c'è la madonna perché non c'è altro, insomma, dà fastidio, a me dà fastidio, non c'è niente da fare. Però, vabbè, dobbiamo parlare tecnicamente in questo momento perché è interessante, perché sono un po' eccitato, e spero che questa eccitazione, come ce l'ho io, ce l'avete voi e soprattutto ce l'abbiano i giocatori. Secondo me il cambio di allenatore può essere... Vedi il caso Milan, no? Tolgono Giampaolo, arriva Pioli, non è che sono migliorati tantissimo. Io mi aspetto tecnicamente che ne vinciamo un paio, che ne pareggiamo una, poi ne perdiamo una, poi ne pareggiamo un'altra, poi ne vinci un'altra, un altro pareggio, due vittorie, un altro sconfitto. Ci sarà, secondo me, un campionato, io non credo che ce la facciamo, sono troppe squadre e troppi punti che ce la facciamo ad arrivare in Champions. Però, però, c'ho quell'entusiasmo, c'ho quella cosa, voglio vedere qualcosa di nuovo, mi sembra che lui abbia le idee chiare. Io poi ieri mi sono visto 29 minuti di video su YouTube, Milanismo, tutte le conferenze di Gattuso. È un personaggio, è un personaggio che, non dico ci ricorda Sarri, ma sicuramente non parla il calcese, nel senso politicamente corretto, risponde sempre. Poi lui aveva molta confidenza con i giornalisti milanesi, chiaramente, ma non gli voleva bene. E lì parte la questione uomo del sud contro la fredda Milano, che aveva delle aspettative e quindi lui si scontrava parecchio. Credo, spero, che questo non avvenga nell'ambiente napoletano. Sicuramente noi non siamo dolci di sale, ma di solito noi siamo più codardi. Cioè, noi parliamo dietro all'allenatore per fargli le critiche. Quando poi andiamo in conferenza sabba, siamo sempre più codardi. Però, ha dichiarato che vuole fare il 4-3-3. È evidente, non gli piace la doppia linea di 4. Quindi, 4-2-3-1 non credo, ma dovremmo vedere il 4-3-3. E quindi qua, adesso io dovrei ricacciare il famoso video che feci a inizio anno, quando ipotizzavo il 4-3-3 di Ancelotti, e resta il dubbio di chi mettere davanti alla difesa. Se vuoi uno che protegge, e allora devi mettere Allan. Se vuoi uno che imposta, devi mettere Fabian o Zielinski. Non se ne scappa. O Elmas. Non si scappa, perché i giocatori quelli sono. Gattuso usava Biglia nel Milan, quello là. E poi, insomma, Kessiba, Kaioko, insomma, tutti lungagnoni poi adattati nel ruolo. Ma io credo, 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 credo che Allan debba fare la mezzala. Deba essere libero di andare ad aggredire nella zona più opportuna a seconda del momento di gioco. Quindi, se lo blocchi centrale con compiti di impostazione, secondo me, perdi un po' di quello e perdi un po' di quello. Allan nei due è perfetto, secondo me, perché si gestisce dove va e poi imposta anche. Però se gli dai un compito troppo specifico nell'impostazione... Ma questa è un'opinione mia. Adesso toccherà a lui capire chi è meglio e poi l'intervento sul mercato mi sembra evidente, perché questa squadra è stata costruita su degli equivoci, sulla famosa convinzione. Ah, ma quello può fare anche quello, quindi siamo coperti... No, no. Che siano ruoli ben definiti, specifici, che ci sia un 11, un 15 giocatori sempre pronti e affidabili e poi, in caso di emergenza... Mi ricordo, c'è una dichiarazione di Gattuso. Gli dicevano, ma adesso c'ha una loclu falso 9, ti può servire per far rifiatare qualcuno? Lui risponde, ma mi stai gufando. Già stai pensando a quando avremo dei problemi di formazione, quindi credo e spero che non si parli di turnover sistematico, che si faranno le sostituzioni quando ce n'è veramente bisogno fisicamente. Chiaramente Gattuso non ha l'esperienza di fare 40 competizioni, la Champions, la Coppa Italia... Però, la cosa importante è che, secondo me, la scelta è giusta, perché noi non avevamo tempo di chiamare un maestro di calcio alla Sarri o alla Giampaolo e ricominciare in corso d'opera a insegnare metodi specifici, particolari, e questa squadra non ha il tempo di farlo. Quindi serviva un personaggio, magari proprio lui che rappresenta, almeno come giocatore, era quello là che proprio non ti molla mai, ricorderemo tutti la famosa scena con Amsic dove lui lo prese. E quindi, secondo me, va bene così. Sono leggermente positivo e ottimista. Voglio immaginare un Napoli che farà di tutto col Parma. Non perché i giocatori fossero contro Ancelotti e adesso sono pro-Ringhio, ma perché adesso i paragoni saranno inevitabili e se i giocatori fanno male anche con Gattuso ci sarà una sparata a zero sui giocatori, a loro si devuio, perché io già l'avevo detto prima e continuerò a pensarlo. E nel momento in cui steccheranno anche nelle posizioni a loro congeniali, senza Panariello, non più alibi. Quindi va bene, va bene così, a tutte le vedovelle di Ancelotti che adesso state uscendo, fate silenzio. Perché? Già vedo, ma che errore! Più che pro-Ancelotti, perché quando Ancelotti faceva le cacate e voi stavate zitti, quindi vuol dire che non vi dovreste permettere di parlare adesso, sembrate semplicemente degli anti-ADL e quindi pur di attaccare dell'Aurendis, adesso criticate anche le sonore di Ancelotti. Le sonore di Ancelotti era inevitabile ed era doveroso, perché non ci... Ok, abbiamo passato un girone che era passabile, questa doveva finire così. Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk, doveva finire così. Va bene, ma non ci possiamo dimenticare le figure di merda che stiamo facendo in campionato. Quindi, vedovelle di Ancelotti, state va a casa, sì, l'uomo è dispiaciuto anche a me, gli abbracci, le cosme, non dobbiamo tempo che fa sentimentalismi. Basta panariello, basta esperimenti, basta sopravvalutazione della rosa e anzi, adesso noi ci ritroviamo con una situazione dove abbiamo queste tre mezze ali che non si sa bene dove giocherebbero meglio. Abbiamo Lozano che deve giocare sull'esterno, non è una punta. Abbiamo preso Llorente, cioè, adesso abbiamo delle difficoltà inorganico su cui bisogna ragionare. Goulam non c'è, il Rui le deve giocare tutte, bisognerà adattare Yusai di nuovo a sinistra quando ci sarà bisogno. Insomma, abbiamo delle difficoltà serie e quindi il vero dubbio adesso è Insigne, perché molti mi state chiedendo di Insigne sulla situazione di Insigne. Insigne per me non ha voce in capitolo per quanto riguarda l'esonero, eccetera, eccetera, non è stato lui a fare sonerasa, semplicemente non si poteva più andare avanti. Adesso bisogna capire se 4-3-3, i tre davanti chi sono. Voglio ipotizzare che Milik, se sta bene, è il titolare, là davanti. A sinistra se la devono giocare Insigne e Mertens. Yunes, non credo perché faccia parte, possa rientrare in queste rotazioni. Insigne e Mertens a sinistra. Mertens può giocare anche sulla destra nel 4-3-3, dove però abbiamo Cagliecon e Lozano che si devono giocare. Questi sono i nostri esterni. Zielinski deve ritornare a fare la mezzala. Fabian per me è un esperimento che va fatto davanti alla difesa, sperando che si svegli un po'. E questo è, ipotizziamo un Di Lorenzo, Manolas, Coulibaly, Mario Rui, Allan, Fabian, Zieninski, Cagliecon, Milik, Insigne, contro il Parma. Con Mertens a subentrare, Lozano a subentrare, Llorente a subentrare. Che Dio ce la mandi buona. A me mi piace questo fatto, io spero che questo entusiasmo venga trasmesso ai giocatori e che facciano le persone serie. Perché restano i problemi interni, non è che cacci Ancelotti e risolvi tutto. Adesso sono i giocatori che devono dimostrare che in Europa ci vogliono arrivare, che lotteranno almeno per provarci. Gattuso col Milan, arrivò quinto, ha un punto dalla Champions, con una squadra decisamente inferiore a questa. Quindi speriamo bene, non fate arrabbiare Ringhiostar con le vostre domande. Cerchiamo di dare, adesso tocca a noi tifosi, dare un boost di fiducia a prescindere. Perché sapete che la testa fa tutto, specialmente con questi giocatori qua. Diamo un boost di fiducia a prescindere, diamo un bonus, un credito a questa squadra con questo allenatore. Non fischiamo, non rumoreggiamo, non spariamo a zero sui social perché questi leggono e si deprimono subito. Quindi adesso fiducia totale, abbiamo aspettato un anno e mezzo prima di bocciare Ancelotti, aspettiamo Gattuso e poi va bene. Nel senso che questo è un contratto a progetto, se arrivi in Champions vieni confermato, se no si ricomincia. E lo scenario, secondo me, se Ancelotti non va in Inghilterra, il Milan si prenderà Ancelotti. Che non credo sarà ancora legato dal contratto perché quello del terzo anno era un'opzione. Ma qualora fosse quello il caso, il Milan si prende Ancelotti e libera Giampaolo che è ancora sotto contratto. E il Napoli si prende Giampaolo e ricomincia con Giampaolo, maestro di calcio alla Arrigo Sarri. E però, come ha fatto il Milan, gli devi fare la squadra con i giocatori adatti e devi farlo lavorare per almeno due anni, senza problemi. Questo è lo scenario, sempre che Ancelotti non vada all'Inter Miami, ma questa è un'altra storia da New York. Valerio Fluido è tutto, iscrivetevi al canale e tra un po' vi darò anche delle indicazioni perché dovete seguire il mio gruppo musicale Prime Prophecy. Ma questa è un'altra storia, ma mi interessa che voi facciate questa cosa qua. Alla prossima!